Una mozione per creare il Consiglio Comunale dei Bambini, a presentarle il consigliere di maggioranza Alfonso Baldi, anche presidente dell'Associazione Cittadini Pro Battipaglia, che ora chiede un impegno al Consiglio e alla Giunta, retta dalla Sindaca Sicilia Francese, per porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di realizzare, a breve, un parlamentino composto da bambini battipagliesi. Il tutto passa per l'istituzione immediata di una commissione speciale comunale, con poi i passi da portare avanti. Altra proposta di Baldi è la costituzione di consulte strategiche alla stesura del nuovo piano urbanistico comunale, un tavolo permanente tra l'ufficio di piano per l'interazione e la partecipazione popolare per la composizione del PUC. Quattro le consulte chiamate a partecipare ai lavori, la consulta immobiliare, la consulta degli anziani, la consulta dei bambini e la consulta dei risabili. Grazie.